L'Isola dei famosi 13, la seconda puntata in onda lunedì 29 gennaio dalle 21.30 su Canale 5 con Alessia Marcuzzi Il conduttrice, Stefano De Martini inviato in Honduras, Daniele Bossari e Mara Venier opinionisti e le incursioni della Jalapas Band in diretta. Ecco cosa succederà. Isola dei famosi 2018, i concorrenti in gara. Francesca Cipriani, Shogero, Alessia Mancini, ex Velina, Jonathan Cascianiano, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurice Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di Colorano, Filippo Nardi, ex bieffino e produttore discografico, Bianca Azei. Cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di uomini e donne, Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Munte, ex-tromista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare Nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex-tromista, Craig Guardic, sensitivo, Franco Terlizzi, personal trainer. Isola dei famosi 2018, Nuentri Elena Morali e un altro naufrago. Due nuovi naufraghi sono arrivati in Honduras per fare il loro ingresso sull'isola del mistero. Saranno entrambi misteriose presenze nascoste nella giungla, che dovranno sopravvivere cercando di sottrarre provviste ai naufraghi, ignari del loro arrivo. Una di loro è Elena Morali, ex della pupa e il secchione, mentre l'identità dell'altro nuovo naufrago sarà svelata nel corso della diretta. Isola dei famosi 2018, chi vuole ritirarsi?. Che è chi ha comunicato di voler abbandonare l'isola. Un momento di cedimento o una decisione definitiva?. Isola dei famosi 2018, chi sarà l'eliminato tra Eva Enger e Marco Ferri?. Si scoprirà chi tra i nominati Eva Enger e Marco Ferri dovrà lasciare per sempre il reality. A deciderlo come sempre il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali, app Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. Isola dei famosi 2018, nuove prove. De Martino coordinerà le nuove prove della settimana alcune leate state personalmente che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi la permanenza sull'isola il titolo di major e peor. Non è comunque non Non è solo come che piace per tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti